Ci sarò qui, con loro. Per chi tiffi tu, Babbo Natale? Io devo dire che tiffo per una squadra che mi piace molto, che è il Napoli. Ma come? Babbo Natale non tiffi per l'amore, la bontà, la giustizia? Tiffi per il Napoli? Anche, anche però... Tiffo per il Napoli? Che devo fare? È un... un sbaglio di Babbo Natale, però... Allora non sei Babbo Natale? Allora sei, ancora dico Armando Maradona, il sogno è finito. Eh... sì, purtroppo è finito. Fatti vedere. Eccolo qua. Sono io.